Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, quest'oggi ci ritroviamo subito dall'inizio sulla pagina di Steam perché? Perché voglio presentarvi quella che è la nostra nuovissima serie una serie che si basa totalmente sul caso è quell'unica serie in cui avrete la possibilità di vedermi giocare nuovamente un gioco horror perché come sapete io li odio cos'è in breve questa serie? è praticamente una serie che noi da Steam prendiamo un gioco in maniera totalmente casuale perché dico da Steam? Perché Steam è semplicemente la piattaforma con più giochi ed è l'unica che conosco io effettivamente ad avere un metodo di selezione casuale mi raccomando, se ne conoscete altre scrivetelo nei commenti che sicuramente vedremo di valutare pure l'aggiunta di diverse piattaforme da cui scegliere casualmente ma andiamo subito a vedere quello che sarà il modo di selezione Steam ha praticamente una pagina in cui permette di prendere un gioco a caso la pagina come potete vedere l'ho messa nella barra dei preferiti è store.steampored.com slash explore slash random questo qui andandoci a cliccare possiamo prendere un gioco a caso praticamente vediamo subito qual è il gioco che andiamo a giocare la prossima settimana Civilization 4 Warlords quindi ci dà pure contenuto aggiuntivo sì io speravo che non aggiungesse pure DLC però ce lo metteremo in gioco noi comunque questo qui sarà il gioco che io giocherò la prossima settimana non molto, giusto un pochino per farvelo vedere per farvi vedere come sono bravissimo in questo genere di giochi sono molto felice, davvero molto felice che non sia uscito un gioco horror mi raccomando continuate a seguirmi ragazzi e ci vediamo col prossimo video qui da Kisser è tutto ciao ciao